offerta di trasferimento vediamo quale squadra aspettate ragazzi il psg mi ha offerto il trasferimento del psg ovviamente io rifiuto adesso perché andremo a fare solo le riserve completamente in un'azione veloce ancora niente non mi fa giocare manco palermo come potrei giocare perché abbiamo perso anche questa e vai va non devono aspettare l'ora devo aspettare io ancora incredibile ok adesso come potete vedere sempre all'angolo in alto a sinistra siamo sostituti non siamo più riserve quindi presuppongo della partita ora dovremmo giocarla entriamo al 40 all'ottanta quattresimo entriamo vabbè come se non avessimo giocato però meglio di niente come faccio a vedere gli obiettivi lì come può vabbè almeno se mi li togliesse davanti vabbè almeno una partita vendetela sta palla dai che lo salto dai che lo salto eccoci qua in aria non possiamo tirare però vabbè ma ancora quel coso lì c'è incredibile comunque faccio vedere dai che abbiamo recuperato palla dai 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 avanza 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 guarda ci sono bravissimo bravissimo l'abbicino verso l'aria viviamo un po' non ci riusciamo però bravo che l'hai recuperato l'ha ucciso vabbè cosa è quel coso vorrei saperlo non dovrebbe esserci li sono gli obiettivi quelli dai dai che possiamo avanzare per fare un collo dai io sono libero a centro aria sono libero a centro aria chi mi vede devo solo saperlo bravo l'hai recuperata vabbè mi ho rubato palla io al mio stesso compagno non so come muovermi perché me l'ha passata a me che ero marcato al 100% un minuto di recupero però non dobbiamo prendere gol non dobbiamo prenderlo il gol per favore l'ho vista dentro si quel coso è perenne nella partita non ce ne entro mai ora fateci l'abitudine dai che possiamo fare gol dai che posso fare eh vabbè allungata troppo porca di quella niente niente non diciamo parolarsi perché noi siamo gentili la partita è finita abbiamo vinto però non sono soddisfatta perché volevo fare il gol adesso andiamo a fare allenamenti voglio solo riuscire a fare il gol adesso allora stiamo perdendo la partita qui la situazione è un po' più tragica dobbiamo fare almeno due gol po' cazzo fratellone so cacce sto caccione ma non devono sbilanciarsi troppo rischiano di esporsi alle ripartenze avversari si sostituisce al portiere qui fa il suo dovere qui il portiere perché l'ha tirata così lontano ma io non sono il difensore comunque però voto dai contro piede va bene va bene il rimpallo fortunato eschiamo di saltarli forse ci riusciamo dai dai tira tira ci abbiamo provato niente da fare niente da fare però la palla è ancora qui tiriamo e niente l'ho ucciso però ho preso il tallone l'importante è questo io sono in gioco non sono in fuori in gioco dai 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 non farò mai un gol questa è la verità ok forse questa è la volta giusta io sono qui solo libero e non me la passa ovviamente deve fare tutto di testa sua dai almeno il pareggio dai troppi ce ne sono ce ne sono troppi dai lo saltiamo ancora qui lo saltiamo proviamoci gol l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto con tanta fatica ci siamo riusciti dai dai è solo è solo è solo ce la fa abbiamo recuperato la partita 3 a 2 abbiamo vinto con tantissima fatica abbiamo vinto finalmente ce l'abbiamo fatta la classifica attualmente noi siamo al quinto posto abbiamo 9 punti almeno 2 punti nel Venezia dai non siamo proprio così lontani siamo 1 a 1 contro il Regina adesso entriamo noi e spacchiamo anche questa partita ciao ciao Grazie a tutti.